Lo scorso 17 luglio erano partiti da Sala Consilina per raggiungere in bicicletta Capo Nord. L'entusiasmante missione di Dino Stavole e Giampiero Cafaro è stata portata a termine e anche con alcuni giorni di anticipo. Tanti paesi europei attraversati in sella alla loro bici, con la quale hanno percorso ben 5.600 km. Davvero un'impresa eccezionale, nata con l'obiettivo di compiere un viaggio indimenticabile, sia da un punto di vista sportivo ed esperienziale, ma anche da un punto di vista emotivo. Soddisfatti ed emozionati Dino e Giampiero per l'impresa raggiunta e per le belle esperienze vissute. Ora però è tempo di riposare. Attraversare l'Europa, scritto Dino Stavola sulla sua pagina Facebook in bici, era solo un'idea, poi un progetto ed infine un'impresa che è stato fantastico portare a termine. Gli occhi sono ancora pieni delle tante cose belle vissute. Ci sarà tempo per i ringraziamenti e le riflessioni su un viaggio che rimarrà per sempre parte della mia storia. Ora è tempo di essere stanchi ed orgogliosi del traguardo raggiunto. È meraviglioso partire all'avventura, è altrettanto bello aver voglia di tornare nei luoghi e dalle persone care. Le idee, i progetti, tutto serve a riscoprire il vero senso dell'esistenza. Dunque è tempo di riposarsi per ripartire con una marcia in più.